Oggi in Europa vivono oltre 500 milioni di persone. Come possiamo garantire loro un approvvigionamento costante di prodotti alimentari sani, sicuri e convenienti? Adesso e in futuro. Grazie agli agricoltori, essenziali per la nostra economia e società. Nell'UE lavorano a tempo pieno oltre 12 milioni di agricoltori, mentre altri 46 milioni di persone operano in settori affini come l'industria agroalimentare. Ma il settore agricolo è in balia di fattori che esulano da ogni controllo come crisi economiche e meteorologiche. Ecco perché l'Europa lo sostiene attraverso la sua politica agricola comune o PAC. La PAC garantisce una rete di sicurezza per le innumerevoli varietà di agricoltura, coltivazioni e allevamenti europei per garantire una produzione costante di derrate alimentari. Nel corso del tempo la politica è cambiata, l'ultima riforma rende la PAC più verde, più equa e più efficiente. La PAC sostiene il reddito degli agricoltori per garantire la produzione di alimenti in tutta l'UE e per aiutarli a fornire beni pubblici. Inoltre offre agli agricoltori nuove risorse per rafforzare la loro posizione nella catena di approvvigionamento alimentare. L'Europa è nota in tutto il mondo per la qualità e diversità dei suoi prodotti alimentari e delle sue tradizioni culinarie. Con la PAC gli agricoltori dell'Europa possono garantire un'abbondante varietà di prodotti alimentari di qualità oggi, domani e per le generazioni future. La politica agricola comune dell'Europa. Abbiamo a cuore le nostre radici. L'Europa 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 L'Europa